ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo è arrivato nuovamente quel momento dell'anno in cui andiamo a recensire l'ultimo aggiornamento di rockstar games quest'anno ovviamente è toccato sia al criminal enterprises che è uscito ad agosto e come ben sapete non mi è piaciuto particolarmente quell'aggiornamento a sto giro tocca allo santos drag wars e prima di cominciare io mi faccio il segno della croce perché quando faccio questi diciamo video recensione che comunque hanno delle mie opinioni personali ricevo una marea di critiche nei commenti anche aggressive da gente che non si sa comportare quindi ragazzi fatemi la cortesia esprimete un vostro parere insomma nei commenti utilizzando il massimo dell'educazione anche con gli altri utenti non vi scannate perché comunque opinioni personali ognuno la pensa in una maniera differente di come al solito iscrivetevi al canale come avete visto sono usciti tutti quanti i contenuti mi raccomando lasciate voti a suo giro insomma non so come mai solamente 4 mila voti comunque evidentemente non è andato in feed come vedete vi è piaciuto il dlc losantos drag wars dire che questo risultato è dovuto principalmente al drip feed visto che il dlc è uscito ma non è uscito sono uscite insomma quante 6 7 macchine ma ne devono uscire altre insomma 15 una roba del genere quindi ragazzi veramente una roba scandalosa solo per le auto non sono uscite ma non solo non sono uscite neanche tutte quante le missioni visto che deve uscire la famosa seconda dose di cui parlava rockstar games che uscirà insomma più avanti e adesso ci arriviamo perché tra l'altro è stata anche liccata ci sono i video su youtube di gente che l'ha giocata e delle cutscene quindi veramente una roba allucinante senza contare poi lo spaccio che dovrebbe arrivare esatto ragazzi ci sarà una specie di modalità spacciatore con laboratorio di acidi che voglio dire una feature carina però l'avrebbero dovuta mettere insomma penso all'uscita poi arriverà il taxi e anche lì ragazzi ci saranno delle esclusive per chi sgancia quindi per il gta plus e ne andremo a parlare e poi il garage da 50 posti che tutti quanti aspettavamo che non è uscito considerando che rockstar proprio nel post del teasing aveva detto dlc multiparte anzi un dlc enorme multiparte spiegatemi come fa questo dlc a essere enorme e soprattutto la multiparte non l'ho capita visto che tutti quanti si aspettavano una parte 1 una parte 2 ma in realtà hanno semplicemente rilasciato i contenuti a pezzettoni come hanno sempre fatto insomma anzi come stanno facendo da praticamente un anno e mezzo a questa parte quindi partiamo dalle missioni di dax ovviamente quelle pubbliche diciamo quelle che non sono state hackerate o insomma recuperate dai file di gioco sono 6 è la prima dose dax un personaggio che ricorda molto trevor e comunque piccola nota ci sono state insomma dei diverbi a quanto ho capito tra rockstar games e trevor visto che lo volevano rimettere in mezzo ai giochi insomma in generale su gta 5 online lui evidentemente ha deciso di non collaborare più con rockstar e quindi hanno tirato in mezzo sto dax che insomma non è ben capito da dove è uscito fuori però vabbè comunque è un personaggio che voglio dire ci sta ron rimesso in mezzo perché comunque alla fine stiamo a blame county però ragazzi se avete giocato anche solo la storia di recente o in generale se l'avete giocata vi rinfresco un po la memoria tutte queste missioni e anche quelle che devono ancora uscire sono praticamente prese e ricopiate da gta storia o da precedenti missioni di gta online se ci fate caso la prima missione in cui praticamente dobbiamo difendere lì dax insieme agli altri membri del team praticamente una sparatoria contro gli mc ed è la stessa insomma di dieci anni fa che abbiamo fatto con trevor per farvi un esempio sicuramente ve la ricorderete comunque ci sono un sacco di missioni simili la seconda in cui dobbiamo andare al appunto all'accampamento dei motorcycle club e distruggere e far esplodere tutto è letteralmente copiata e incollata da quella di dieci anni fa di trevor di gta storia ma proprio uguale gli acid trip è una missione insomma sarebbe la quarta se non erro che comunque è veramente carina e originale anche lì insomma c'è della roba riciclata dalla storia visto che una missione simile l'abbiamo fatta anche con michael sicuramente ve la ricorderete se vi ripeto avete giocato la storia però comunque voglio dire è una cosa originale la posso anche accettare comunque è piaciuta a molti e poi l'ultima missione in cui dobbiamo entrare nel laboratorio humane che oramai non è più neanche una cosa originale all'inizio ragazzi di gta online si i laboratori humane venivano visti come un qualcosa di mistico adesso praticamente li mettono in mezzo in tutte le salse è una roba veramente incredibile l'abbiamo vista con michael su gta storia con i colpi nel 2015 con il dlc di franklin insomma siamo andati a fare qualche missione all'interno del laboratorio humane e anche in altre missioncine diciamo secondarie che sono uscite ultimamente con gta online poi abbiamo la missione del treno che insomma è quella finale sempre dopo il laboratorio humane in cui dobbiamo far deragliare il treno e rubare il contenuto insomma le varie robe lì anche in quel caso è stata molto carina a me personalmente piaciuta il problema è che anche in quel caso ragazzi era una roba molto familiare visto che abbiamo fatto praticamente la stessa cosa in un contratto del ls tuners quindi del dlc uscito non questa estate ma quella precedente poi se andate a cercare ragazzi le missioni che praticamente sono state spoilerate che sono in drip feed quindi non dovrebbero essere pubbliche però comunque lo sono su youtube andate andrete sicuramente a notare che molte missioni sono simili a quelle di gta storia come ad esempio c'è quella lì con il cargo plane che insomma sarebbe quella aereo enorme con il portellone danneggiato in quel caso ragazzi è uguale a una missione che abbiamo fatto con trevor in cui spingevamo la gente di sotto non so se ve la ricordate con il quad c'è tutta quell'animazione fighissima e tutto questo mi fa pensare che a rockstar games sia insomma finita la fantasia non so magari un'impressione mia perché comunque va bene che il mondo di gta online è quello che è però comunque manco a far proprio le cose copiate incollate inizialmente insomma cercavano di nascondere questa cosa però veramente con questo dlc si sono superati poi ovviamente fatemi sapere la vostra nei commenti sono coincidenze molto particolari le missioni secondarie di dax invece ragazzi sono semplicemente missioni in contatto che lo chiamate insomma vi fa fare la missione sono carine nulla di che non le ho giocate tutte quante però comunque anche in quel caso è ci stanno però insomma non è proprio la parte centrale del dlc per quanto riguarda i veicoli li ho provati quasi tutti non ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente mi sembrano tutti uguali onestamente sono i classici veicoli che comprate poi non utilizzate più non c'è proprio quel veicolo che vi rimane impresso utilizzate per sempre quindi alla fine amen e c'è pure un veicolo che vi ho fatto pure il video riguardo toglieranno praticamente oggi quindi il 28 ed è ragazzi una roba assurda e non si è capito neanche il motivo visto che non ce l'hanno detto e parlando degli altri contenuti ragazzi abbiamo lo spaccio che è una roba originale che praticamente è una mod presente su gta per pc installabile e insomma ci sta ragazzi nel mondo di gta fare una cosa del genere soprattutto con questo nuovo business il garage che deve ancora uscire voglio dire sono 50 posti non si buttano via il prezzo alla fine è quello che è il business dei taxi ragazzi secondo me è una gran cosa ma qui c'è la fregatura la prima cosa è che sto taxi lo metteranno su warstock quindi sul sito dei veicoli armati che vabbè voglio dire ci può stare un veicolo pegasus va bene ma comunque 600 mila dollari per sto veicolo sono un po tanti secondo me in più ci sarà la funzionalità del teletrasporto di cui tutti hanno parlato anzi è praticamente una funzionalità come su gta storia che vi permette di teletrasportarvi da una zona all'altra insomma entrando nel taxi senza dovervi fare tutta quanta l'animazione e la guida su strada e a quanto pare secondo test fans 2 questa funzionalità sarà esclusiva gta plus quindi se pagate ce l'avete se non pagate non ce l'avete sapete cosa significa e che non sarà neanche disponibile sulla old gen quindi su ps4 xbox e pc e ragazzi aggiungerei un'altra cosa ma vi rendete conto che non è ancora uscita la next gen su pc quanta cioè veramente va bene non mi esprimo neanche riguardo ragazzi lo sapete come la penso ogni volta credo che insomma esce a sto giro a sto giro esce a sto giro esce alla fine non esce mai la trovo una roba ridicola e soprattutto irrispettosa per chi gioca su pc perché alla fine i pc nella maggior parte dei casi sono molto più potenti delle console non vedo perché debbano insomma giocare con meno contenuti rispetto a chi ha una ps5 un xbox series x os poi l'unico contenuto che è praticamente uscito il nuovo business insieme al freak shop il freak shop ragazzi è semplicemente un luogo tra virgolette pubblico visto che lo sbloccate con le missioni si può fare poco e nulla carino per carità il nuovo laboratorio di acidi ragazzi è un ottimo business per chi ha insomma iniziato gta online da poco visto che praticamente ve lo regalano e ve lo ripagate con le missioni utente medio che praticamente gioca gta online da più di nove anni essenzialmente si è stufato di giocare a gta online quindi lo ha accantonato ma perché non c'è nulla di nuovo da fare dopo che vi siete fatti caio per la quarantesima volta vi siete stufati e semplicemente è a scariato gli lc ha giocato le sei missioni in due ore neanche perché sono veramente facili le missioni e poi ragazzi ha sbloccato il laboratorio ha visto ok è un business passivo parte 2 è un bunker parte 2 è un motorcycle club parte 2 bene io non ci sto quattro ore e mezza oppure sei ore insomma con gli upgrade ci mettete sicuramente di meno per fare 300 400 mila dollari poi considerando vi ripeto il bonus vendita arrivate anche al doppio quindi ci sta come business però comunque per uno che già ha i soldi non insomma non si diverte a fare questo business visto che non c'è praticamente nulla da fare poi parliamo degli ultimi contenuti che hanno aggiunto con insomma l'aggiornamento tra virgolette di natale il gush che sarebbe il grinch e la missione della pistola ci stanno carine però il problema è che sono buggate ragazzi voi mi dovete spiegare io comunque mi continuano arrivare messaggi ma non mi spawna il grinch ma perché non mi esce la pistola ragazzi queste missioni sono buggate io non so perché appena insomma ho avviato gta mi sono uscito subito sono stato fortunato evidentemente perché l'avevano appena messe e ragazzi evidentemente hanno cambiato qualcosa non escono veramente più uno deve perdere le giornate per poi sbloccare una maschera e una pistola che insomma è inutile molti me l'hanno detto ma è una pistola in ceramica sì ragazzi è presente la pistola in ceramica però ve la regalano con questo evento che per carità c'è l'ister egg carino però veramente una roba che rockstar dovrebbe sistemare quindi ragazzi il mio voto a questo dlc mi dispiace ma è insufficiente lo so sembra brutto da dire mi dispiace dirlo però ragazzi per me è un dlc da 5 per carità la storia anche carina ci può stare però non è un dlc invernale abbiamo visto il passato caio perico the contract e insomma tutti questi dlc così che sono enormi dlc più piccoli durante il periodo estivo quest'anno abbiamo avuto un dlc praticamente piccolo nel periodo estivo che sì ci sono stati miglioramenti sei missioni che veramente dei modder su pc amatoriali l'avrebbero fatte meglio però vabbè e poi a dicembre abbiamo avuto quest'altro mezzo dlc che visto che non è ancora uscito tutto e ragazzi secondo me non va bene per gta online visto che vi ripeto chi si era stufato di giocare a gta online prima si è stufato di giocare a gta online anche dopo il dlc praticamente subito e quello che penso in realtà è che rockstar si sta concentrando a gta 6 e niente sta cercando ovviamente di spremere fino all'ultimo gta online con le varie nuove versioni con gta plus e onestamente mi sarei aspettato un qualcosina in più con i vari aggiornamenti visto che hanno introdotto anche questo abbonamento che è un qualcosa in più sono sempre soldi in più che gli arrivano però vabbè speriamo che quest'anno esca qualcosa su gta 6 che vi devo dire potrebbero sistemare le cose così ma ovviamente sarà sempre una specie di paraocchi visto che non lo vedremo prima di due tre anni e comunque fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi ringrazio della visione noi ci vediamo al prossimo video